La nuova stagione del Paradiso delle Signore Nove sta per cominciare, e l'attesa è alle stelle. Ma dietro le quinte di una delle serie TV più amate d'Italia, si sta consumando un dramma inaspettato. Uno dei nuovi attori appena entrati nel cast è già sull'orlo di essere sostituito. Di chi si tratta? E cosa ha scatenato questa crisi che potrebbe cambiare per sempre il volto della sopra? Prima di scoprire tutti i dettagli, assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere neanche un aggiornamento su Il Paradiso delle Signore Nove. Il nome al centro di questo terremoto mediatico è Thomas Santu, il nuovo interprete di Enrico Brancaccio, un carabiniere dal passato oscuro, destinato a diventare uno dei personaggi chiave della nona stagione. Ma l'arrivo di Santu sul set non è stato affatto semplice. Secondo voci di corridoio, l'attore avrebbe incontrato notevoli difficoltà a integrarsi con il resto del cast, in particolare con Roberto Farnesi, uno dei pilastri della serie. Le tensioni tra Santu e Farnesi sarebbero esplose durante le riprese, creando un'atmosfera pesante sul set e mettendo a rischio la qualità delle scene. La produzione, consapevole dell'importanza di mantenere alto il livello della sop, starebbe considerando l'idea di sostituire Thomas Santu, se la situazione non si risolvesse in tempi brevi. Enrico Brancaccio, il personaggio interpretato da Santu, è un carabiniere con un passato tormentato e segreti che potrebbero sconvolgere gli equilibri del paradiso. Il suo ruolo è cruciale per lo sviluppo delle nuove trame, e proprio per questo la produzione non può permettersi di avere incertezze sulla sua interpretazione. Il pubblico attende con ansia di scoprire quali saranno le sue vicende, ma il destino di Enrico potrebbe cambiare drasticamente se Santu dovesse essere sostituito. Il giovane attore si trova ora davanti a un bivio. Riuscirà a superare le difficoltà e a dimostrare di essere all'altezza del compito, o sarà costretto a lasciare il posto a un altro interprete? La posta in gioco è altissima, e l'ansia di sapere cosa accadrà tiene tutti con il fiato sospeso. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Thomas Santu riuscirà a mantenere il suo ruolo. L'arrivo di Thomas Santu e le tensioni che ne sono derivate aggiungono un ulteriore strato di suspense a una stagione già ricca di colpi di scena. I nuovi personaggi come Odile di Sant'Erasmo, Mirella Vanni e Giulia Furlan promettono di portare freschezza e nuove dinamiche. Ma il dramma che si sta consumando dietro le quinte potrebbe lasciare un segno indelebile su tutto il cast. Mentre i fan aspettano con ansia di vedere come si svilupperanno le trame sullo schermo, il futuro di Thomas Santu rimane avvolto nel mistero. La sua permanenza nel cast è tutt'altro che garantita, e la possibilità di una sostituzione è sempre più concreta. Tuttavia, se riuscirà a superare le difficoltà e a trovare il suo posto all'interno della squadra, potrebbe ancora avere la chance di conquistare il pubblico e di dare vita a uno dei personaggi più memorabili della serie. Se pensate che Thomas Santu meriti un'altra opportunità, lasciate un like al video. La nona stagione di Il Paradiso delle Signore si preannuncia come una delle più emozionanti e drammatiche di sempre, sia sullo schermo che dietro le quinte. Le tensioni tra gli attori, i nuovi ingressi e le storie che ci aspettano promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Ma il destino di Thomas Santu e del suo personaggio Enrico Brancaccio è ancora tutto da scrivere. Riuscirà l'attore a superare le difficoltà e a diventare un volto amato della soap? O sarà costretto a fare un passo indietro? Solo il tempo lo dirà. Ma una cosa è certa. Questa nona stagione del Paradiso delle Signore non mancherà di sorprendere. Non perdetevi neanche un episodio, perché il vero spettacolo potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. Iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici per restare sempre aggiornati su tutte le novità della serie.